Realizzare subito una rotatoria nell'incrocio di via Pola sulla stradale 17 lo chiedono i residenti della zona all'indomani dell'ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una Panda e un Audi, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. L'arteria si è resa già in passato teatro di incidenti stradali, anche gravi, da qui la richiesta avanzata dai residenti di realizzare la rotatoria, oltre alla raccomandazione di rispettare la segnale di castradale. Chi contravviene a codice della strada si è sanzionato, ma riteniamo altrettanto giusto cercare di limitare quanto più possibile la possibilità di incidenti, mettendo in sicurezza tratti stradali che sicuri non sono, fanno notare gli abitanti di via Pola. L'ultimo incidente in ordine di tempo si è verificato ieri, erano passate le 13 quando si sono scontrati nel solito e maledetto punto una Panda guidata da una donna e un Audi con a bordo una coppia. Stando una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la Panda proveniva da via Pola, diretta verso Pacentro, l'Audi invece procedeva in direzione Marane. L'impatto è stato violento ed eventuali responsabilità saranno accertare dei carabinieri della stazione di Sulmona, giunti sul posto per i rilievi di rito.